Caro Enelix, io sono sincero e parlerò in maniera sincera di Milano Atalanta e di Di Bello che deve andare in pensione e poi parlerò di qualcun altro che deve andare in pensione in Lazio-Roma. Tutta la verità e non come qualcuno che solo perché indossa dei colori dice balle. Perché adesso i milanini stanno tutti, vero Enelix, stanno tutti citando Cesari che fino a due giorni fa era un povero mentecatto, uno che non ne azzecava una. Adesso citano tutti Cesari perché fa comodo, Sport Mediaset aveva i diritti della Coppa Italia ma Graziano Cesari il lampadato è quello che due o tre giorni fa ha detto che il gol del Verona era assolutamente, assolutamente da annullare perché c'era fallo su Arnautovic è quello che ha detto che il rigore per il Verona ci può dare un rigorino ed è quello che ha raccontato tante altre sfumature su una partita come l'Inter-Verona che ha generato un polverone che non meritava, che non esiste anche perché se notate e se ci fate caso, ho fatto un megamix di due frasi se ci fate caso e se ci notate è tutto sparito dai media adesso le prime pagine sono di Popovic, domani saranno di Mourinho, saranno di Pioli saranno di Gasperini, saranno di Bello è sparito interverona anche se oggi Zazzaroni ha riprovato a riportare il tema andiamo su Milano Atalanta, allora vorrei subito dire caro Ennex carissimo Ennex, Luca Cohen, questa gentaglia qua, gentaglia, gentaglia cani, cani, ok, cani primo episodio, quello più clamoroso perché poi è determinante, no? facile, no? Luca Cohen dice, no, conta il peso, è questo qua un peso specifico enorme enorme, cioè c'è una spinta clamorosa Cesari Lampadato lo ha detto è un caso che fa incazzare Gasperini che già aveva Chieruggini con Di Bello e viene cacciato giustamente ma clamoroso questo rigore, è il primo e calcolando che il Milan ha fatto forse meglio nel primo tempo questo è un episodio che blocca la partita a favore dei milanisti e non la sblocca a favore dell'Atalanta, tanto che poi il Milan fa gol clamoroso il fatto che non venga dato rigore l'Atalanta clamoroso che non venga chiamato al VAR perché questo è un chiaro dividente errore non è una roba normale di gioco dopodiché c'è il non rigore per l'Atalanta, quello è vero anche qua Di Bello sbaglia, tra l'altro si sente sicuro, non va a vederlo Hernandez si dice vai a vederlo e lui non va in realtà come abbiamo visto il calciatore bergamasco e chi era? Coso, va bene mi viene il nome, si lascia cadere prima e quindi Jimenez tocca la palla, mi spiace c'è anche un ragazzo giovane e questo non è calcio di rigore poi poi succedono altri episodi e il più importante è quello poi del rigore del rigore non dato al Milan qua secondo me ci poteva stare rigore qualcuno parla di salto congro Cesare dice che invece è calcio di rigore secondo me quella mano è un po' galeotto poi sta tornando verso il corpo però in quel momento aumenta il volume il movimento congro perché salta qui sinceramente non so rispondere però se davano rigore per il Milan 94esimo non c'era nulla di cui insomma scadalizzarsi quindi una partita clamorosa con un arbitraggio penoso con il rapporto Var-arbitro folle e quindi qua certo se Enerix fa un video in cui chiede scusa a tutte le cazzate che ha detto su Inter Verona posso anch'io dire che questo è un arbitraggio scandaloso che dobbiamo tutti insieme fare una una petizione perché questi arbitri che tra l'altro venerdì si ritroveranno se non hanno annullato la riunione venerdì gli arbitri si ritrovano e forse faranno un comunicato non lo so comunque è uno scandalo mentre il calcio sta andando verso le riforme epocali quindi dalla dalla UEFA che non è più monopolista di nulla fino a Gravina che vuole la Serie A 18 squadre e qui ha ragione io farei anche 16 però 18 ci può stare 20 20 no è troppo ecco mentre qui siamo tornati indietro di non so quanti anni cioè abbiamo la tecnologia abbiamo gli arbitri che si preparano che fanno gruppo che sono vestiti ingellati allenati depilati e poi combinano un sacco di guai non si può andare avanti così perché io giuro lo dico adesso al minuto 4.49 di questo video 10 o 11 gennaio non so che ore sia non sei già mezzanotte attenzione perché quando l'ho detto nell'anno nello squetto dell'Inter ho detto occhio vinciamolo prima se no succede il fin di mondo ed è successo così l'ho detto anche quest'anno all'inizio del campionato ho detto occhio perché se gli arbitri non ci spiegano come stanno ragionando ed era solo la seconda giornata perché il caso di Andoi e Juve è clamoroso ma non perché era Juve perché è clamoroso clamoroso l'hanno detto tutti l'hanno detto loro l'hanno detto anche i Juventini io non poteva essere in qualsiasi squadra anche l'Inter a Genova ha avuto questo questo gol convalidato ma a Bissek fa fallo la spinta c'è io voglio capire oggi Milan prima viene avvantaggiato prima viene avvantaggiato l'Atalanta poi viceversa come state arbitrando io non lo so più che altro come state usando il video assistant referee cioè il video che assiste l'arbitro se si chiama così il video assistant referee cioè l'arbitro è il video arbitro che poi assiste che assiste l'arbitro ok invece non lo assiste that god taxi driver che Dio t'assista non lo assiste perché l'assistenza c'è a determinate regole in certe occasioni io farei il VAR a chiamata come c'è nella got league tu dici chiamo il VAR e tu chiami il VAR e se poi hai ragione mamma se poi hai ragione io direi così se tu chiami il VAR e hai ragione deve essere squalificato l'arbitro è così voglio dire mi penalizzi non vai devo chiamarlo io allora ci vogliono regole più chiare piuttosto perdiamo qualche minuto in più al VAR andiamo a vedere i casi poi ci saranno sempre anche noi tifosi però dobbiamo anche capire che ci sono casi che possono essere veramente controversi e risolvibili quindi o si semplificano le regole esempio quando una palla va sul braccio è sempre a rigore poi uno dirà me l'ha tirato addosso e la regola è questa capito? e se no c'è sempre dell'interpretazione ci sarà sempre un po' di soggettività e quindi di polemica però va ridotta qui invece la polemica è aumentata qui veramente se non ce n'è uno che non si lamenti si lamenta ai uve ma in che mondo vediamo che si lamenta la juve poi si lamenta il bologna poi si è lamentata persino l'inter all'inizio perché comunque i gori a salerno frosinone tutte robe non date non lo so ragazzi ma contro l'Atalanta Lukman tira giù di Marco quello è sempre stato fallo voi pensate no vi dico una cosa voi pensate una finale di Champions una finale di Coppa del Mondo tu immaginate una finale appunto Argentina Brasile decisa da un giocatore che mentre l'altro sta tranquillamente con la palla in difesa come era Di Marco arriva uno non so come Ronaldinho o Cacca immaginiamoci un mondiale così Cacca contro Messi tira giù il calciatore e poi la passa dal suo compagno che fa gol 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 Rolex 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 ragazza pom 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 ragazzi ma voi vi immaginate una finale di Champions decisa da un da un fallo così netto quello di Lukman su di Marco è fallo poi l'Inter la vince non se ne parla ma quella è una rapina così come rigore non dato a Salerno su Turam e però stavate vincendo mi pare fa niente e se non vincevamo quel primo tempo che era 0-0 e il Mani di Gila e il Mani di Gila è come in Lazio-Inter è come questi falli di mano solo che l'Inter ha vinto e non ci siamo dimenticati va bene uno scandalo e ci vuole chiarezza gli arbitri erano veramente stufato stanno rovinando il calcio io ho fatto anche l'arbitro non ne ho mai attaccati da quando sono sul canale questa volta sì ma non perché sbagliano perché fanno i fighi oggi di bello ha cacciato Gasperini poi ha detto tipo andate a casa io non so se era finita la partita andate a casa uno non deve perché lui dirà eh ho detto andate a casa perché era finita no andate a casa non lo dici al massimo dici andate negli spogliatori non andate a casa perché andate a casa è una follia l'arbitro non può essere protagonista però siccome li abbiamo vestiti ingellati ingioiellati depilati ora fanno i fighi brandizzati siamo alla follia siamo al protagonismo gli arbitri rimangono attaccati al loro ruolo perché fra un po' come nei supermercati come dico io con i casellanti ci saranno le macchine ci sarà l'intelligenza artificiale gli arbitri spariranno così come non ci sarà più la cassiera ok non ci sarà più il casellante non ci sarà più purtroppo e non ci sarà più l'arbitro ci saranno dei computer uscirà la scritta sul monitor rigore sotto la spiegazione finita lì i calciatori avranno dei sensori avremo 100 telecamere e gli arbitri sono aggrappati a questo ruolo umano che vogliono mantenere purtroppo stiamo andando verso il mondo disumano verso il disumanesimo quindi è fattuale che gli arbitri cerchino di resistere ma soccomberanno sono superati oh ragazzi guardate che io sono uno che io non so quanta roba stampavo dagli anni 90 oggi potevo vivere di cose stampate e poi e poi è nato il mondo digitale perso una marca di fatturato madonna se ci penso però le tipografie sono per non per sé non sempre ma per molte cose sono superate perché c'è il digitale e cosa facevo mi sono cercato di fare gli arbitri scompriranno come le cassiere casellanti mentre i casellanti si sono arresi le cassiere e loro cosa fanno rimangono appesi al loro ruolo creando danni per quanto riguarda l'Inter Morigno Morigno da quando ha parlato degli stipendi dell'Inter da quando ha fatto delle uscite non carine perché io da Morigno non mi aspetto cioè Morigno veramente per quello che siamo stati insieme come un amore meraviglioso non puoi parlare male della tua ex ci sono delle cose che rimangono anche se poi hai un'altra donna che magari ami anche di più ma certe cose non puoi dirle e da quando lui ha parlato male dell'Inter gli è girato un po' tutto sì la Conference League però ogni volta perdi i derby non tira in porta il giocatore ce li ha e non riesce a metterli insieme non sto dicendo che è Bolitinho perché per me in un certo ambiente è ancora bravo però devo dire che devo dire che quest'anno sai fai fatica ad Europa League vieni buttato fuori dalla Lazio per l'esima volta non vinci mai un derby campionato fai ridere cioè va bene la Lazio era promosticata adesso ci sarà la Juventus col Frosinone e se Dio vuole poi c'è la Fiorentina i rigori col Bologna e se Dio vuole questa Coppa Italia si andrà verso le semifinali che saranno più avanti e fino a primavera non ne parliamo più poi ci saranno le semifinali di andata e ritorno belle penso Juve Lazio e Fiorentina in Atalanta esatto quindi finale possibile finale possibile non lo so l'Atalanta per me batte la Fiorentina quindi va in finale finale Juve Atalanta finale Lazio Atalanta ancora se Lazio Atalanta la puoi vincere alla Lazio all'Olimpico comunque vabbè Coppa che vale poco sia che la vincano loro o che la vincesse l'Inter all'epoca adesso la Supercoppa dove ho già detto molte cose non aspettatevi una grande Inter concentrata perché è concentrata su altro va bene poi parleremo di mercato un po' di cose le ho scritte su quel secchio di vomito di Twitter e per il resto sta ingranando il mercato mancano ancora 21 giorni alla fine e sarà divertente io vedo che molta gente si sta spostando verso quello che io dicevo ad ottobre l'attacco dell'Inter non sarà lo stesso fra 21 giorni non ho detto che arrivano 6 punte che va via quello io vi dico che sarà diverso vi dico quello che ho detto a ottobre perché poi i fenomeni adesso c'è gente che mi scrive meno 10 più 10 più 11 mi scrive i giorni vabbè poi parliamo di tutto di Sensi di Agumet di quello che uscirà perché comunque sto sguinzagliando le fonti buonanotte e forza Inter grazie